Niente cambio del bidone dell'organico senza green pass, la rabbia di un fanese che lancia un appello ad Aset Andate oltre le restrizioni assurde e senza senso, pago le tasse come tutti, l'azienda replica Gli impiegati sono tenuti a chiederlo, non escludiamo una querela per gli atteggiamenti oltre i limiti della civile convivenza Cabina dell'Enel in via dello squero a Fano, l'assessore Tonelli annuncia un sopralluogo e l'incontro Con i residenti per valutare il sito meno impattante Sui terrazzi delle case spuntano i primi striscioni contro il max impianto Mentre l'Udc attacca la giunta, il sindaco Seri blocchi questa ennesima follia Da sottosegretario Gabrielli a un libro dedicato all'anniversario dell'assassinio del giudice Falcone Direttore di Passaggi Festival, svela le prime novità, aumentate le sedie sia nel centro storico che in zona mare Fano cammina in forma, torna il ciclo di appuntamenti con i medici del territorio per promuovere la salute e la prevenzione Una serie bentornati sul canale 17 del Digitale Terrestre per Occhio alla Notizia Questa sera apriamo il nostro telegiornale con l'episodio che ha come protagonista Un cittadino di Fano che si è visto negare da Aset il cambio di un bidoncino dell'organico Perché concesso soltanto ai possessori del Green Pass Tutto è iniziato ieri mattina quando Eduard Antognoni, residente a Fano, si è recato davanti casa Per ritirare il bidoncino dell'organico svuotato dagli operatori di Aset Il contenitore però si era rotto, così ha contattato il servizio dedicato per avere informazioni Gli è stato consigliato di recarsi al centro di raccolta differenziata in via dei Platani Dove avrebbe dovuto compilare un modulo per ritirare il nuovo bidone, ma qualcosa è andato storto Gli ho chiesto, guarda, gentilmente, devo cambiare il bidone che mi hanno detto che mi devo presentare qua Mi ha detto, sì, devi compilare questo foglio e ci presenti il Green Pass E io chiaramente gli ho detto, scusa, ti riempio il foglio e basta Tanto il Green Pass ho visto che di fuori nella porta c'è scritto accesso consentito solo con Green Pass Sarebbe rimasto fuori? Sì, gli ho chiesto e ho detto, guarda, mi passi il foglio di carta da riempire Poi io te lo restituisco e tu praticamente mi dai il bidone Ecco, facciamo così, facciamo, così io non oltrepasso la linea di entrata E invece, ha proseguito Eduard, l'operatrice mi ha risposto che per riceverlo Era comunque necessario esibire il certificato verde Io, onestamente, il Green Pass ce l'ho per lavorare Ma mi rifiuto, mi rifiuto e mi rifiuto di presentarlo per ritirare un bidone Che è un mio diritto, credo, al 120% Visto che Eduard Antonioni paga le tasse regolarmente Sempre dentro nella trattata di scadenza Divide la carta, la plastica, il vetro, l'alluminio, tutto come volete Quindi faccio tutto il mio dovere da cittadino E quindi io ho diritto di ricevere anche il bidone, credo, dal mio punto di vista È vero che poi sono intervenute anche le forze dell'ordine? Sì, sono intervenute le forze dell'ordine Sono intervenute perché io, da libero cittadino Cioè, che mi sento Per me, le persone che mi chiedono una tessera verde Per questo servizio, per me, sono tutti complici Quindi loro hanno chiamato probabilmente Dietro questa frase o per altri loro interessi L'operatore dell'Age ha chiamato le forze dell'ordine Io sono stato molto felice che li hanno chiamati Perché altrimenti li avrei chiamati io C'è un messaggio che vuole lanciare? È una cosa che ho scritto questa notte Perché non ci ho addormito un po' dalla rabbia su questa cosa Di fronte a discriminazioni come quella appena raccontata Chiedo una sola cosa Di ascoltare il nostro cuore in queste situazioni Ed andare oltre Oltre a queste restrizioni assurde e senza senso Facciamolo per un quieto vivere E per la sovrivenza di ognuno di noi Vogliamo veramente mettere un bidone di rifiuti Di fronte alla nostra persona? Non credo proprio Iniziamo a farci qualche domanda seria E le risposte le abbiamo già dentro di noi Vi chiedo di portare questo esempio del bidone dei rifiuti In qualsiasi altro servizio Dove chiedono questa infame tessera verde Il bene e la luce ha sempre vinto sul male Dipende solo da noi quando farla brillare Con affetto, Edoardo Antognoni E dunque ad Edoardo non è stato consegnato il bidoncino Ma da Aset è arrivata la replica La società dei servizi ha dato ai suoi dipendenti Specifiche deleghe per effettuare il controllo dei green pass Necessari per l'ingresso negli uffici L'utente si legge in una nota Alla richiesta di esibizione del certificato verde Ha risposto di non volerlo mostrare Accompagnando il suo diniego Con una serie di considerazioni Fino ad arrivare a lanciare il vecchio contenitore All'interno dell'ufficio stesso A quel punto, prosegue la nota Gli operatori gli hanno fatto notare Che anche se ognuno è libero di pensarla come crede E quel gesto non era stato opportuno Oltre ad essere certamente segno di poca educazione Nei confronti di persone che stanno facendo il loro dovere Rispettando regole aziendali e norme di legge Le scandescenze dell'utente a quel punto sono aumentate Dicono da Aset Poiché non c'era più modo di calmarlo Gli operatori hanno deciso di chiamare le forze dell'ordine E' quindi intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato Che dopo un po' di tempo è riuscita a calmare il cittadino Aset S.P.A. sempre nella nota Ricorda che il Green Pass viene chiesto solamente per accedere agli uffici Inoltre l'azienda si riserva di querelare Coloro i cui comportamenti oltrepassano i limiti della civile convivenza Sta facendo discutere in città la realizzazione di una maxi cabina elettrica Lido di Fano Mentre i residenti iniziano ad appendere striscioni contro l'impianto L'assessore Fabio Latonelli annuncia un sopralluogo e un confronto con i cittadini Per individuare l'ubicazione meno impattante Critiche e preoccupazioni in via dello squiro a Fano Dove da ieri è iniziata a circolare la voce della realizzazione di una cabina di quasi 15 metri quadrati In uno dei posti più caratteristici della città Prima con un rendering e poi con gli striscioni Gli abitanti della zona stanno manifestando la loro contrarietà All'impianto definito uno scempio paesaggistico Stefano Luzzi, residente in una delle case prospicenti E titolare di una struttura ricettiva situata proprio di fronte alla futura centralina Ha già inviato al sindaco e all'assessore Fabiola Tonelli una diffida con la richiesta di chiarimenti Assessore che oggi ha dato alcune spiegazioni A partire dalle esigenze legate all'impianto di sollevamento delle acque meteoriche di Piazzala Mendola Questa cabina che verrà posizionata in questa zona di via dello squiro Si sarebbe comunque dovuta fare Perché l'Enel ha fatto una richiesta al comune Per aumentare il servizio dell'area del Lido di quella zona Quindi comunque questa cabina abbiamo necessità di costruirla in quell'area In quell'area intendo adesso tutta via dello squiro fino a Piazzale Calafati Quindi noi abbiamo unito le due necessità Altrimenti ci saremmo dovuti trovare nella zona turistica del Lido Due cabine di dimensioni circa 5 per 2 metri e mezzo Sia a lato in Piazzala Mendola Comunque nella zona del Lido vicino a l'ex Hotel Vittoria E inoltre anche quella del Lido zona sud Diciamo verso via dello squiro In questo caso con una cabina di dimensioni circa 5 metri e mezzo Per 2 metri e mezzo Riusciamo a costruirne una sola In base alle motivazioni tecniche, ha poi spiegato Tonelli Sono state scartate altre soluzioni Un'opzione poteva essere quella in fondo via dello squiro Più nascosto verso la strada Ma tecnicamente non fattibile L'altra opzione era vicino all'edicola del Lido Proprio nel cuore del Lido Scelta che abbiamo scartato a priori Penso che con questo siamo tutti d'accordo Quindi doveva rimanere nell'area di Piazza Calafati Quindi le opzioni sono o all'interno di Piazza Calafati O nella via di via dello squiro nell'area verde Ed è ancora troppo presto, ha aggiunto l'assessore Dire quando inizieranno i lavori Perché stiamo ancora eseguendo le verifiche di fattibilità Domani pomeriggio incontrerò i tecnici Appunto per approfondire ulteriormente questo tema Ho invitato anche qualche consigliere comunale Che si interessa appunto della questione Venerdì mattina vorremmo fare un sopraluogo Per incontrare i residenti Cercare di fargli capire le varie opzioni E le motivazioni tecniche Sul giornale ho notato che c'è scritto Domani pomeriggio Quindi vorrei puntualizzare che Domani pomeriggio non andremo sul luogo Ma spostiamo l'incontro a venerdì mattina E sulla cabina dell'Enel oggi è intervenuto anche l'Udc Che ha attaccato la giunta seri Basta fare danni e sperperare così i soldi pubblici Hanno dichiarato del Vecchio e Polligioni Condivisione con i residenti nulla Hanno scritto in una nota Del resto le belle parole del sindaco Sulla trasparenza e sui tavoli della partecipazione Sono ormai superate dalla realtà Di una giunta incapace al confronto Anzi prepotente e autoritaria Basta andare su una mappa digitale Hanno proseguito E verificare i tanti luoghi Dove ubicare la cabina elettrica Non prevista erroneamente Della giunta senza creare danni All'immagine della città Al sindaco ha concluso l'Udc Chiediamo di bloccare Quest'ennesima follia amministrativa E di verificare con attenzione Il luogo in cui posizionarla Cambiamo decisamente argomento E parliamo di passaggi festival Che torna a Fano nel mese di giugno Oggi su Fano TV Il direttore Giovanni Belfiori Ha svelato le prime novità L'evento si amplia Con nuove sedi e rassegne La macchina organizzativa Di passaggi festival È in moto già da mesi Per preparare la decima edizione Dell'evento Che torna a Fano Dal 20 al 26 giugno Anche quest'anno Lo staff mette in campo Presentazioni di libri Laboratori Conversazioni Ma anche mostre d'arte E iniziative collaterali Ospitando giornalisti E personaggi della cultura Le iniziative si svolgeranno In alcuni dei luoghi più suggestivi Della città Ad annunciare le prime novità È il direttore del festival Giovanni Belfiori Quest'anno passaggi festival Festeggia il decennale Intanto è stato scelto il logo Sì È stato scelto il logo Attraverso un sondaggio Si votavano sei loghi Creati dalle nostre grafiche Federica Falcesecchi E Maria Chiara Indelicato Ha vinto un logo appunto Creato da Maria Chiara Una grande partecipazione È stato più che altro Un gioco divertente Possiamo già svelare qualche novità? Possiamo anche iniziare a dire qualche nome Per esempio avremo sicuramente Un libro che ricorda L'anniversario dell'assassino di Falcone Stiamo cercando anche di portare Un autore molto particolare Il prefetto Gabrielli Ex capo della polizia Ex capo della protezione civile Attualmente sotto segretario della sicurezza Quindi ci saranno dei nomi molto interessanti Che verranno fuori Stiamo lavorando in questo momento Quello che abbiamo già definito Ha proseguito il direttore Sono le sedi E il tipo di libri Che i visitatori troveranno al Festival 2022 Che quest'anno vedrà aumentare Il numero delle sedi E gli appuntamenti in programma Non è sempre facile Perché ha un costo questo Infatti abbiamo dovuto rinunciare A una bellissima sede Che avevamo individuato al porto di Fano Però ci saranno altre novità Per esempio Una sede nuova in centro storico Stiamo cercando di individuarla Vicino al monastero delle Benedettine È un'area privata Abbiamo fatto richiesta All'amministrazione del condominio E lì dovrebbero essere Messe essere collocate Quattro assegne specialistiche Una sul benessere Una sulla divulgazione scientifica Curata insieme al rettore Dell'Università di Camerino Claudio Pettinari Una sulla divulgazione artistica Curata insieme alla storica dell'arte Marta Paraventi E una di filosofia Curata insieme al filosofo della scienza Armando Massarenti Ma non solo in centro storico Le nuove sedi sono previste anche in zona mare Noi abbiamo delle presentazioni al mattino Che sono al bonbon e a bagni torrette Vorremmo appunto portarne una anche all'argilla Anche lì è una scommessa Perché di solito le persone alle nove e mezza vanno al mare E noi invece proponiamo dei libri Finora è andata bene Vediamo come andrà In più c'è una novità Che riguarda un altro stabilimento balneare In questo caso gli incontri non saranno al mattino Ma nell'orario dell'aperitivo Se è mezza sette Parliamo di Bagni Elsa È l'ultimo stabilimento nel territorio comunale di Fano A Fosso Seiore Abbiamo trovato dei ragazzi molto bravi Che già facevano delle iniziative a Pesaro E con loro vorremmo portare Diciamo così Degli eventi legati Al contenitore fuori passaggi music and social Quindi eventi per un pubblico più giovane Quindi ci saranno novità Perché uno quando arriva a Fano Dal 20 al 26 giugno Troverà la piazza con i grandi nomi più popolari Più noti eccetera La San Francesco con la rassegna di narrativa straniere di poesia Tra l'altro di narrativa straniere avremo tre albanesi Avremo un autore ungherese Un'autrice polacca e un'autrice croata Quindi insomma è un autore ucraino anche Ecco Il Pincio è confermato con le due rassegne Graphic novel e fuori passaggi music and social E poi ci sarà la Mediateca Montanari Con le presentazioni Due rassegne per i bambini E i laboratori per i bambini I laboratori saranno anche al mare Nelle spiagge di Lido e di Sassonia Quindi il nostro obiettivo è che quando uno entra in città Abbia veramente la sensazione di vivere in quella settimana In una città del libro In una cittadella della cultura Lo scorso settembre sono stati ultimati i lavori Per la sistemazione della nuova sede del centro di ascolto Caritas A Fossombroni in via Passionei Il centro è operativo e disponibile Su appuntamento telefonico il sabato Dalle 9.30 alle ore 12 Nel corso del 2021 I volontari hanno incontrato 98 persone E fatto 131 colloqui Le famiglie attualmente assistite Sono 71 di cui 109 adulti 51 bambini e 39 ragazzi Tra i servizi invece La distribuzione di farmaci e alimenti Anche pregnonati La consegna di buoni spese alle famiglie più bisognose La compartecipazione nel pagamento delle utenze domestiche E l'acquisto di bombole e legna da ardere Oltre a queste famiglie ce ne sono altre Che saltuariamente passano per il centro di ascolto Con la richiesta di un aiuto straordinario Ad esempio alimentare o economico Lo scorso anno sono stati distribuiti Più di 3.100 chili provenienti dal banco alimentare E 360 chili di prodotti alimentari Donati dalle parrocchie Dai supermercati E dai vari negozianti La salute e la prevenzione Continuano ad essere promosse Grazie al progetto Fano Cammina L'iniziativa coordinata Dall'assessorato alle pari opportunità Del comune di Fano Si pone l'obiettivo di promuovere Stili di vita sani Un'attività fisica leggera E il confronto tra medici e cittadini Servizio di Filippo Pucci Fano Cammina e Informa Il progetto di promozione alla salute Che pone l'attenzione sulle tematiche di medicina di genere Rivolgendosi a tutta la popolazione fanese E non solo Sei quest'anno Gli appuntamenti tra medici e professionisti Che si mettono a disposizione della cittadinanza Per approfondire tematiche di salute Con l'obiettivo di mettere in luce Dubbi e paure Espronare alla prevenzione e alla cura della propria salute Sarà possibile seguirli in diretta streaming Da giovedì 17 febbraio alle ore 17 In diretta streaming sulle nostre pagine Facebook La pagina del comune di Fano La pagina di Fano Cammina E la pagina del pari centro Ma sarà possibile anche seguire Sulla pagina YouTube del comune di Fano Per chi non ha Facebook Ricordo che sarà possibile anche fare Delle domande alle dottoresse in diretta Commentando semplicemente Con una domanda sotto nei social Durante l'appuntamento Oppure chiamando Allo 0721-887-337 E ponendo appunto alla moderatrice Una domanda che può essere poi Posta direttamente da lei In diretta Grazie alla collaborazione Con diverse associazioni del territorio Voglio ricordare e ringraziare L'associazione Donne Medico Sezione di Pesaro Urbino C'è poi la vicinanza Del ASU Area Vasta 1 E grazie anche alla vicinanza Di due associazioni importanti del territorio Fand Fano Che si occupa appunto di diabete Ma anche con anvolta sezione di Fano Che si occupa appunto di contrasto Alla prevenzione e assistenza Per i malati oncologici In più quest'anno sarà confermata La camminata serale per le vie di Fano Dalle 20.30 alle 21.30 Con una camminata semplice di un'ora Dove comunque ci si fa poi alla fine Un po' l'esercizio fisico E a fianco a questo progetto A questo appuntamento settimanale Abbiamo attivato di volta in volta Diversi progetti Il programma completo sugli incontri E gli approfondimenti Sono disponibili sul sito del Comune di Fano Io ringrazio veramente tutti i medici E tutte le dottoresse Che si sono messe a disposizione Per questo progetto Perché è un progetto molto importante Anche di vicinanza Di accompagnamento alla cittadinanza Su alcune tematiche che riguardano la salute Di grande preoccupazione per alcuni E interesse per molti e per tutti Quindi vi invito a seguire gli appuntamenti Di Fano Cammina e Informa Vi annuncio che l'ospite di lunedì sera Primo cittadino Sarà il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli I numeri di telefono di riferimento Sono sempre gli stessi Il 338 49 68 250 È quello riferito anche alla nostra redazione Quindi sono sempre importanti per noi Le vostre segnalazioni L'informazione torna domani mattina Con occhio ai giornali Condotta da Massimo Foghetti Buona serata Grazie a tutti